Ciao a tutti ragazzi, sono Frategg, oggi siamo qui in un nuovo video di Bro Stars e oggi proverò a pushare un poco 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 DAG sono qui con un mio amico, che non ce l'ho a fianco però dai, ce l'ho tra gli amici e quindi proviamo a pushare questo DAG, incredibile attenzione, o l'è tolto molto bene allora, siamo in showdown, siamo in SD cerchiamo di fare il nostro meglio Bro è andato a FK, è morto? ok, va bene, molto bene intanto, scusate ragazzi se parlo poco, o parlerò poco però comprendete che faccio fatica a giocare e intanto a parlare ragazzi, è davvero davvero difficile, lo ammetto è una cosa difficilissima, almeno per me, poi c'è chi ci riesce naturalmente però per me è difficile, perché o mi concentro uuuuuh, cosa mi ha tancato cosa mi ha tancato allora concentrazione questo via ok, molto bene tolto il corvo intanto stiamo giocando over 750 quindi ce la facciamo vieni qui vieni qui muori eh no, 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 così no così non esiste recupera 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 immediatamente molto bene ragazzi, seconda posizione molto bene ragazzi, tritato tutto tritato tutto, davvero forte mi sta divertendo? sì, mi sto divertendo intanto lui esce, non ho capito perché, però va bene scrive, vediamo cosa scrive il nostro incredibile amico ah, ok, va bene però partiamo andiamo eh, perché io sinceramente non ho voglia di perdere tempo a scrivere eh scambi di stare tutto il game mid, va bene va bene se riusciamo, stiamo mid ho capito e si inizia con un'altra partita vai, 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 vai oggi siamo carichi molto carichi vai, via ok, tutti hanno dag incredibile buono molto buono nooo vabbè, c'è un 10 power può scappare può fare quello che vuole è un pochino il capo vediamo cosa combina tanto ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace iscrivervi al canale attivare la campanellina dai, le solite cose le sapete anche voi tanto curo il mio bro eh, niente io ci muoio un'altra volta eh, però eh, sono difficili le partite beh, oddio forse no non troppo dai comunque siamo già in 4 poi ho dag che non lo so usare bene il mio problema è quello che non lo so usare bene però vediamo di far qualcosa vediamo di fare qualcosa guarda l'ho sprecato addosso così vedi di far qualcosa eh, niente speravo che non mi prenda con niente perché se no mi annichilisce ma davvero del tutto e ecco non vedi non vedi che mi ha preso eh, vale eh, qua qua è dura la verdura ok tolto molto bene molto bene il nostro amico diventa sempre più forte tanto lui lo proviamo a scannare lui ci avrà o la visione o le mine infatti c'ha le mine molto bene il nostro amico va a pushare e c'è Ems là che non mi piace per niente allora il bro mi colpisce ovviamente perché noi siamo degli sfigati però va bene lasciamo stare no problem no problem allora bisogna togliere Ems via 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 molto bene molto molto bene vai 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 oi 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 ok morto morto allora ci stava per per derubare questo qua molto bene si continua a scalare tra l'altro siamo anche in win streak quindi molto bene stiamo facendo anche la missione molto molto bene non farò un video lunghissimo dai credo di stare sui 12-13 minuti non di più vabbè mi contraddico sempre e come crash mini mi escono video da 20 minuti perché avrei piacere a caricarli i video sincero e poi oltre a caricarli oddio non mi morire eh non mi muori grave errore grave errore suo erroraccio suo davvero cioè non doveva pushare in quella maniera personalmente almeno non doveva pushare in quella maniera cioè ok che c'avevi una doppia stun però sai com'è quello va da automina ci piace e io te lo piazzo qua dai come la metti ok lui è il suo di amico io è il mio siamo in due ti prego stunna lì ok tolto attenzione oh ehi via 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 da questa parte da sta parte porca puttana e niente persa questo persa la win streak malissimo va bene continuiamo è meritata questa secondo me però potevo scappare potevo fare un sacco di cose quindi insomma insomma insommino allora mortis già è chi va bene centrali vediamo cosa ci combina la lobby ok andiamo a danneggiare oi 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 ma a me mi muore eh vabbè ragazzi cioè non so cosa dire 608 ci moriamo come delle pere e va bene moriamoci come delle pere tanto minuti di silenzio praticamente però va bene ci può stare allora lui ha attivato il gadget ok muore Shelly e proviamo a fare e niente è mia colpa colpa mia questo ragazzo è perso lo vedo da un miglio che è perso non va bene poi non c'è nessun gadget non c'è niente va bene lasciamo stare non c'è niente intanto loro continuano a pestare su di noi se ti vuoi lanciare su di loro a me fa comodo però nel senso questo è perso cioè a meno che succeda qualcosa di particolare è perso ok terzi almeno non soffriamo tutto il resto non soffriamo la perdita di coppe madonna madonna ti devi lanciare beh niente come fai ok via dall'italia molto bene molto bene via 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 ce li hanno sotto tiro tanto io ragazzi non c'ho neanche l'audio vi ripeto perché se no non mi sentireste non riesco a regolarlo proprio per nulla quindi mi tocca usare tutto senza audio ed è un peccato sincero sì però qual team lì ci deve morire eh grazie eh vabbè sono morto cosa volevo fare e niente ragazzi secondi va benissimo cioè no problem no problems no problem 6 e 15 proviamolo boh se riesco al 6.50 però dobbiamo vincere gli stecca e rimanere dai sotto i 15 minuti di video non vorrei non vorrei sforare che non mi piace tanto Doug come brawler sincero però di safe è diventato forte come ha detto lui sì è vero cioè è diventato forte l'hanno baffato in una maniera mostruosa muori e però pusha tanto lui cioè sì bene però non benissimo vieni qua vieni qua vieni qua che al massimo se ti riesco mi attacco e ti curo allora lui ha preso il passo assurdo perché mi sa che è un pin del Pascovello cioè quello del Pascovello di Kit no prima molto bene molto bene molto bene se l'è mangiato tanto sto pin che non capisco se è buggato o meno però credo di sì pin buggatissimo e niente proviamo a vincere proviamoci almeno un pochino no missato peccato siamo ancora in 5 va bene che le partite sono 7.50 tutti cercano di stare esterni però mi sembra eccessivo dai se venite qui ok 4 squadre 4 squadre lì arriva il suo bro e ok vai 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 ok ottimo mangiato 10.000 danni vergognoso vergogno ehi ok tolto tolto tolterrimo anzi tanto proviamo lui sparerà un coso lì poi ne sparerà un altro ma non ce la farà quindi morirà easy dobbiamo tolto dobbiamo togliere quello lì vai 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 tanto non muori ok morto molto bene silenzio papale non papele papale assurdo davvero davvero molto forte tanto procedi più 9 più 1 quindi 10 15 6 25 e si sale si sale piano piano si sale allora sinistra ci sono due casse lui mi ha detto di stare mid al centro va bene però attenzione ok questo ho aspettato il momento giusto e ok vai 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 salta lì vieni qua ok allora dobbiamo prendere le due casse di là se non le hanno già prese ok non le hanno prese molto bene vieni qua vieni qua bastardo vieni qua è un cane no 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 però mi devi aiutare ma te mi devi aiutare mi devi aiutare mi devi aiutare mamma mia e non posso rimanere da sola ad andare a prendere due casse uno e va bene ok tolta molto bene tanto la ultima la uso mai la sto usando praticamente mai dai questa è persa questa è persa questa è persa è persissima si a voglia si è persa niente guarda quelli dove erano che schifo gioca ancora gioca ancora siamo in serie speriamo di farla ancora in serie perché devo caricare il video devo caricare assolutamente sto video qua intanto vi rinnovo il like signori che importantissimo intanto tre due uno inizia lo scontro via 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 al centro via al centro centro ci sono tre tre brule quattro con Sam ok toltissimo ok molto bene molto bene molto molto bene intanto quattro squadre molto molto bene e lì c'è un team vai fai quello che vuoi tanto rinasci no problem bastardo guarda che cane prendo tutto io non so cioè questa cosa sto bidone non lo so usare ok tolto sette sei cinque quattro tre due uno si vola molto molto bene va bene non fa niente non fa niente sei morto ci sto allora colto è molto forte quel colt lì ha le mani posso dire che ha le mani no 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 non ti lanciare per nessun motivo ecco graverone però brutta la sua ulti cioè spacca sì però non è una ulti bellissima ok 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 fai quello che vuoi quello che ti pare bravo bravo vai curati vai 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 in mani full vita così vai vai siamo quattro squadre quanti siamo ok vai fai quello che vuoi tanto rinasci ok tolto colt che era molto forte ok no me l'ha tolto da sotto il naso vieni qui muori ok tolto 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 tutto buono team solidissimo ragazzi bellissime partite intanto io già mi sono contraddetto con i 12 13 minuti che avevo detto 6 e 36 dai portiamolo 6 e 50 portiamo 6 e 50 dag lo portiamo 6 e 50 ragazzi intanto vi volevo dire che se siete arrivati fino a questo punto del video vi invito a lasciare l'hashtag che adesso mi inventerò di sana pianta mentre gioco hashtag dag lasciate hashtag dag per farmi capire che siete arrivati fino a qua intanto io ho già fatto un errore perché dovevo andare al cento insieme ai miei amici non ci sono andato molto male mi sono proprio scordato però dai recuperiamo ora 6 power ci siamo siamo in gavetto molto molto ai oddio molto molto bene poi magari me lo pusho anche da solo anche senza il mio amico però oddio questa è la mappa che rimane anche fino a domani mi sa di sì o non è arrivato l'orario eh mi sa che cambia le 9 peccato quindi il bon non lo so quando lo pusherò o se lo pusherò serio cioè non lo so proprio tanto lì si saccagnano e a noi ci piace e qual è il grave errore mio mio soprattutto curati curati ok ok va bene va bene va bene ok ti ho curato ti ho curato calma calma la calma lì dobbiamo giocare bene eh se lo tirassimo giù quello lì se lo tirassimo poco poco giù non ti dico che ci farebbe bene allora molto bene ragazzi molto molto bene vieni qui vieni qui vieni qui non darmi fastidio a me ok ok no 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 eh niente ragazzi mi ci muore l'amico bellissimo intanto provo a gestirmela attenzione attenzione provo ad avvicinarmi all'altro brawler ma non ci riesco spreco un gadget male però in linea di massima questa è vinta cioè senza alcun problema alcuno ok lasciamo il power lì perché tanto c'è un team lì sicuro molto bene vanno a togliere il team con più punti e andiamo a vincere questa partita lei non potrà fare niente quindi farà pochissimissimo danno però vai vai molto bene portato a 6.50 non credo mi sa che serve un'altra partita 6.48 ragazzi lo script è altissimo lo script è altissimo però dai manca una partita vuoi che non le riusciamo a vincere per forza tanto sono le 8 non avevo mai postato un video così tardi cioè postato programmato poi ci devo fare anche la copertina ragazzi ho da fare intanto un mio amico da instagram mi manda delle robe ok molto bene ok ho tolto un team così sto laggando tantissimo non capisco il perché non dimmi che IG non dimmi che IG non c'ho voglia di sapere che IG team da dietro ok molto bene io me ne vado di qua a sinistra per vedere cosa succede guarda rimango qui non calco le palle a nessuno rimango qui non fa niente e proviamo a resistere intanto 4 squadre rimanenti situazione non rosa intanto proviamoci a muovere sempre se no ci dà l'fk sinceramente non vorrei arrivare terzo che non c'ho proprio voglia ok almeno secondo spero almeno intanto c'ho dei singhiozzini che non avete idea sto tipo soffocando ok c'è macello là sopra però non so cosa sia credo la Jackie credo sia la Jackie posizione non bella prendono danni succede qualcosa però ok oh ah peccato ragazzi mi sa che questo è da rifare con tutto il bene che vi voglio ma questo è da rifare che ci abbiamo sfiga eh non si lancia da nessuna parte non può fare niente va bene continuiamo oltre 20 minuti di video per portarlo su però va bene queste sono coppe gratis praticamente dai gioca ancora gioca ancora tanto ragazzi vi invito vi invito a lasciare un like ai miei video vi invito tra l'altro vi ringrazio ragazzi per i per i 11 iscritti ma eh se 10.000 iscritti magari 10.000 iscritti gli 11 iscritti gli 11 iscritti siamo ancora umi muori 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 e niente grave errore grave molto male siamo a 40 facciamo un più 9 eh ragazzi è così è così questa molla la perdiamo la perdiamo se la perdiamo piango e chiudo il video perché non basta mi sono rotto sincero sono proprio rotto allora proviamo ad andare al centro a spaccare un pochino tutto eh c'è Shelly ok facciamo tantissimi dissimissimi danni molto bene grave grave errore suo tanto io mi vado a prendere sto bro uno due e tre buono ok il mio amico è di là e sta facendo il nostro cosa io non sento niente ragazzi come non sentite voi non sento neanche io quindi è morto va bene essere pusciosi però sai com'è ok si è spaventato quindi sicuro un baffo al suo amico non lo da ok va bene va bene caricati quello che vuoi fai quello che vuoi non ti preoccupare tanto uno due e tre non muori non muori ok forse un pochino è specata la ulti però va bene lasciamo stare eh vabbè ci hai lanciato in bocca cioè si devi essere puscioso questo qua questo è il re ragazzi cioè è il re del gioco cioè lagga poverino cioè sta morendo spero di fare un più nove poi un più qualcosa perché basta cioè voglio caricare i video fare la mia miniatura andare a letto sono sincero allora qua intanto ci tirerà tipo una salacca da qualche parte ne sono convinto ok muore 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 prendo prendo io prendo io non ti preoccupare vai 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 no non pushare però non pushare che non va bene non va bene pushare ok 9600 prendiamo dei power ottimi davvero ottimi per ok tirano tirano la salacca non gliela ha tirata dai 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 e quelli no no così no così no eh non esiste non esiste perder così no perder così no guarda io per sicurezza l'attivo facciamo danni e ole e andiamo a vincere sta partita qua 23 minuti di video per portare su un brawler così e metterlo a 649 va bene poteva finire prima sto video sincero poteva finire prima abbiamo avuto sfiga con quella partita là allora ce la dobbiamo gestire bene al centro comunque non lo sta usando nessuno ce la so io praticamente qualcuno tanto centrale 1 2 3 buono nostro tutta ciccia nostra questi qua no no mi hanno feicato mi hanno feicato e niente sono stati bravi 1 2 e ci devi morire ci devi morire ok prendiamo il power così ci potenziamo e ole sta andando bene per essere un push a 650 ok ha stunnato e toglie un team benissimo ragazzi queste portate in saccoccia proprio oddio perché parlo presto recuperare 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 no spacca oddio ha sbagliato lo spacco è stupido è stupido ha sbagliato lo spacco ha sbagliato del tutto tutto quanto ha sbagliato se gli arrivo io in testa sto qua piange non avete un'idea tanto il micro ne è ancora 7 quindi ah lo spacco me lo sono beccato io però se non vedi che pizza però eh solo a me mi devo prendere eh no io mi allontano non esiste c'è il team sopra dai vuole non dare fastidio al team sopra uno due no dai che pizza dai no no colt no eh no non esiste non esiste vai leva quel team la sopra eh guardali 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 che fanno gli stupidi non ce lo meritiamo non ce lo meritiamo per niente stiamo scherzando no eh no no io mi sposto non esiste la cosa se non sta né nel cielo né nella terra ok portare 650 tu sopravvivi perché lo dico io ok morto eh niente e va bene ragazzi per oggi è tutto abbiamo portato Daga 650 scusate per il video lungo ma ci voleva e andiamo a vedere le coppe che si aggiungono al nostro account incredibile 46 coppe free praticamente e vi invito ad iscrivervi a lasciare un mi piace e ad attivare la campanellina ci vediamo ad un prossimo video bella